Uuuuh ragazzi, buon gododay e bentornati Incredibile su Elder Ring Sapete che mi piace fondere la mia intro podosa Con la musica epica di Elder Ring In questo episodio Suss dovremo fare un sacco di cose Allora, il piano di oggi Ho degli appunti Suss lì Sì, io tengo gli appunti Suss vicino al calendario Suss Ragazzi, è tutto quanto Suss qui Allora, dobbiamo sconfiggere Radana questa volta Ci siamo capiti Poi andare alla torre di Radana e sconfiggere il Sacri Derma Suss Se ci riusciamo E andare nel dungeon per prenderci quel trinket Suss Per un po' possiamo poterci e andare senza danni multipli Perché quando ci addentreremo nella capitale Io ho memorie di danni assurdi Soprattutto di quei pistoleri che sparavano le frecce esplosive Io mi ricordo che facevano un danno assurdo Quindi per evitare che il nostro Suss prenda danni incredibili E si possa potere una esplorazione della capitale incredibile Ci metteremo un talismano che non c'ha più la penitenza del danno multiplo incredibile E poi mi ero scritto che volevo andare a Nox Però non so se riusciremo a fare pure Nox Nello scorso episodio abbiamo visto che Suss si è arrabbiato con me Perché giustamente non mi ricordavo di questa cosa Suss Io deduco che se adesso io vado un attimo alla tavola rotonda E torniamo qui magicamente La festa inizierà e Suss potrà andare alla festa Allora il nostro tizio è andato a cercare la sua serva che è morta Lui, però adesso non ci serve Lui è ancora con noi Non doveva partire aveva detto? Vi avevo detto che avrei farmato per usare il potere draconico Ma non ci ho avuto tempo come al solito ragazzi Quindi niente Come sta il nostro Roger adorato? Ok, Roger sta per morire Così ci prendiamo il set suo Ok, abbiamo beccato il dialogo Suss di lui che prega Allora, attenzione Io direi di potenziarci questa Perché alla fine, per carità Non so se sarà mai una labarda finale Per quanto riguarda la build di Suss Perché vi ho detto che io volevo dargli la lancia arborea Quella con la trivella Suss Però sicuramente questa è un'arma che c'è dal primo episodio Mi sono affezionato a questa labarda dorata Quindi semmai mettiamo le dual di labarda serie Questo c'ha pure il baffetto incredibile Vale la pena portarla sopra adesso Ok, al 5 Con Gideon ci abbiamo parlato Ecco, una cosa che non mi ricordo E continuo a non ricordarmi Cosa devo fare per farmi attaccare da questo NPC Non mi ricordo mai nella vita che devo fare Direi che possiamo andare Torniamo alla festa Si sarà sbloccata adesso, penso, no? No, non c'è ancora la festa Cioè, quanto devo aspettare per fare una danna? Scusami Niente, la festa ragazzi non vuole iniziare Allora, andiamoci a fare dungeon intanto Vediamo un po' Andiamoci a fare questo qua Allora, due, vabbè Dai, ce ne abbiamo altre sei, dai Oh, guarda un po' chi c'è il nostro amico qua Fantastico Sempre quel poco Che fa la differenza Come vi dico Andiamo Velocissimi Woo Arrivo ad andare a prendere subito il trinket Che è la cosa che mi interessa di più Eccoci qua Fantastico E poi possiamo pure andare a eliminare l'uncerato Intanto Ragazzi, io non volevo sanguinamento però Ok, meno uno Oh, oh bravo Fantastico Perfetto Eccolo Vabbè simpatico No Ok Molto bene Ok Bene Un po' di pulizia sus Non ho assolutamente intenzione di eliminare queste creature Terribili proprio Con una R Non mi ricordavo questa cosa Perfetto La nostra missione è stata fatta Quindi io direi di andare via Allora, il mio piano è eliminare quell'affare Così ci possiamo godere una esplorazione simpatica Allora, secondo voi il vostro sus incredibile Avrà delle doti d'arciere Ah, aspetta Aspetta Ho avuto un attimo un ricordo sus Non è facile qui, eh Qui c'è un altro ostacolo Eccolo Giovanni I suoi attacchi incredibili Vabbè, volevo bere un attimo Non fa niente Eh già GG Perfetto Oh Molto molto bene Che poi tra l'altro questo arco sus Non era male, vabbè? Arco pesante e l'albero madre Diciamo che aumenta le stesse cose Però non abbiamo il danno terribile Quindi io me lo metterei Adesso ci riposiamo il falosus E andiamo a eliminare lo spirito arboreo È incredibile come queste tombe incredibili Siano così tranquille Quando ammazzi quell'affare Guarda che posto incredibile Tanto mi ricordo tantissimo Quando vai da Velstalt In Dark Souls 2 Che infatti pure quella era la tomba di coso Del re Vendrick Ragazzi pronti? Una palla di fuoco Ma di quelle palle di fuoco ragazzi Che si vedono solo negli anime Un'altra Così facciamogli sentire la potenza del vostro sus incredibile Va, ci ha fatto sentire la sua di presenza Che è molto più forte di noi Comunque complimenti ai miei danni Cioè Ok che ho tolto quello di nato Però ragazzi prendiamo sempre delle belle sberle Io lo dico Pronti ragazzi Stiamo per affrontare una delle boss Le più belle di Elder Ring Sono ironico ovviamente Ah, buongiorno signora Allora, secondo me non ne vale assolutamente la pena Evocare gli schede di quanto sta a fare Forse vale la pena Non lo so Non vedo niente ragazzi Forse gli schede l'hanno mandato in crisi Non vedo niente Quindi Non so Non lo so ragazzi Gli schede in realtà mi stanno aiutando o no Non lo so Forse sì Io come al solito ragazzi non vedo niente Beati voi ragazzi Vedete quello che sta facendo questo affare Avevo letto una volta Che Questo doveva essere un nemico di Dapsol 3 Cioè Quegli spiriti che sono nel 3 Che infatti vengono fuori dai piccoli non morti Sarebbero dovuti essere questa creatura E gli schede sono rimasti vivi ragazzi Gli schede sono troppo forti ragazzi Troppo forti Suss si è legata a questa cosa Che deve eliminare Radan Però non è che è necessario eliminare Radan No qui vedete Non si è successo niente Cioè O lo elimini come seconda runa Oppure Devi aspettare magari Non lo so Qualcosa Perché Di fatto Radan ragazzi Non lo possiamo fare ancora Comunque vedo che le pizze Volano eh Oh Corazza da capire È sull'alterata Ed è veramente orribile Mamma mia Quanto è brutta Oh Bene Livellino fatto Allora ragazzi Visto che qui non c'è speranza Qui non mi si attiva Io non capisco Non mi ricordo proprio Io vorrei fare una cosa Questa però ragazzi La devo cercare in diretta Perché Allora Vi ricordate che vi avevo detto che Per quanto riguarda la missione di Varree Per fare la missione di Varree Offline Devo eliminare Un NPC Chiamato Magnus Che sta proprio Dal tuo plateau In delle rovine E vai ragazzi Cominciamo ad entrarci Verso la capitale Poi offline Vi faccio tutti questi esplorazzi Incredibili Vediamo un po' dai Eccolo qua Mettiamoci qua Che abbiamo più spazio Vai Uno Proprio questi Un po' Baggadini Mi dicono Dalla regia Tutto bene Con calma Mi fa rire Che quando fa Questi movimenti Suss E poi smette Capito Un po' Così Ah M'ha preso Guarda com'è contento Di andare a cavallo Ragazzi È molto felice Quest'uomo Questi comunque Hanno un design Pazzesco Sti nemici Eh Me la ricordavo La spallata Sus Vieni Vieni Forza Forza Che stai per cadere A cavallino Forza Forza Cavallino rampante Vai Eh Me la ricordo La spallata Sus Forza Forza No Non lo farai Eh Già È la tua fine Ciao ciao Bene L'abbiamo distrutto Ce n'è da quella Caccia gigante Ascia lunga E una labarda Attenzione Vabbè Però testiamola un attimo Ragazzi Giusto per prova Poi in caso ci rimettiamo Quell'altra Qui c'era Bok Ti ricordi di me Certo Non mi ricordavo Che ti diceva lei Di parlare con Bok Ma che carina Questa cosa È un dialogo unico Se tu ti scordi Di parlare con Bok Lei ti dice Fai parlare con Bok No vabbè Fantastico Pure questo Ho mai beccato Oh Comunque mi piace Che sto avendo Un sacco di ricordini Simpatici In questa Sus run Incredibile Cominciamo Ad andare Verso la capitale Allora C'erano se non sbaglio Due strade Sus Abbiamo La strada Con il dragone Di magma Incredibile Che probabilmente Farò io off camera Perché non è un boss assurdo E poi c'era L'altra strada Che è quella Dell'ascensore Ora Io però Non mi ricordo Se ho tutti I due pezzi Dell'ascensore Comento di testare L'alabarda Sus nuova Forza Vabbè 18 di nuovo Questo è un buon segno Non è andata Molto bene Eh no Fratello Se non sbaglio Mi facevo Molto meno danno Con quell'altra Molto bene Colpo in gradibile Mazzesco assurdo Ah mazza Che figo L'attacco in corsa Allora Qui c'erano Un sacco Di accampamenti Sus Vero A parte che Mi tirano robe Qui c'è un esercito Che ci vorrà impedire A tutti i costi Di andare La capitale Noi Ovviamente Supereremo Tutti questi ostacoli Sus Qui c'è un tizio Morto male Saletta L'unica Molto bene Sì lo so ragazzi C'è un accampamento Però quello Magari me lo esploro io Che già me l'hanno fatti Vede parecchi Di accampamenti Sus Possiamo parlare Con Maria di nuovo Che dite? Sì sì dimmi tutto Vai Vabbè Grandi parole Da una grande donna Insomma Vediamo un po' Se il nostro Bellissimo Ascensore funziona Sì funziona Perfetto Vi rivedo questa cinematic Che non la vedo Veramente a tanto tempo Bellissimo Che poi mi ricordo male Ho queste cinematic Degli ascensori Tutte uguali Pure quella Per Andrata Malenia Cambia il colore Suo della mia Io continuo A non ricordarmi Il motivo Per il quale Rattan Non te lo sblocca subito Secondo me Perché ho già Due rune E quindi Il gioco dice Oh vai un po' avanti E poi te faccio Contra Corradan Oh io te ce mando Alla festa Alto piano di Atlus Mamma mia Il godo Allora Qui la situation Cambia tanto ragazzi Qui ci sono nemici Interessanti Molto forti E pazzeschi Ovviamente Questa cosa Non era nei piani Però Accendiamo Questo falo Incredibile Direi di riposarci qua Oggi Maria ragazzi Non ci molla Oggi si parla con Maria Tutto il tempo Forza Un'altra chiacchieratina Con Maria Su E già Giustamente poco fa vi ho detto Che ho letto Dove sta questo famoso NPC Per la missione di Varrette Potrebbe essere Questo qui il posto La butto così Perché ha detto Che sono Delle Rovine 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 Deluxe No Mi sa che non è questo No Non sono queste sicuramente Però a sto punto Che dite Facciamo qualsiasi cosa Che c'è qui dentro Buongiorno signora Avevo proprio voglia Di affrontarla Tutto bene Attacco il salto In seguita Bocco tutto bene Eh sì Ci hai provato Ebbè questo è più duro Del po' di prima È più duro il nostro amico Dai forza I tuoi cavallini Rampanti Vai Con calma Mi farete quando si ferma Fa queste mosse Un po' susse così Un po' stravaganti No non credo lo farei Vai Tra l'altro non mi ricordo Ma nella vita Che droppa sto coso Quell'altro mi ricordava Troppava qualcosa Di intrigante Questo non mi ricordo Che poi si può fare Peria a sti cosi Mi pare no Ovviamente noi Non lo faremo Perché Non siamo Capace a farlo A queste cose Quindi evitiamo Begutina Che dito è meglio essere Furco sti cosa Spaladina Eh lo sapevo Vai Forza 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 Eh fratelli Stai il cadea Pazzasso Il sanguinamento Che dà quello a fare Assurdo Oh dai Uno Due E ciao Perfetto Molto bene Diecimila Rimelle Cene di guerra Ordine condiviso Vi giuro Che non mi ricordavo Mai Nella vita Una cosa del genere Ah ok Parente di baffa Di luce L'arma Ok Io direi Alla forza Mi piacerebbe Cominci a portarla su Mi sa che dobbiamo Cominci a portare Anche su Tempra Facciamo un livellino A Tempra A questo punto Io mi andrei a prendere Le mappe Di questa zona Sus Ce ne stanno due E poi ragazzi Mi dispiace che non abbiamo Fatto una danno in questo episodio Non so che boss fare Ok adesso torniamo qua Andiamoci a prendere L'altro pezzo di mappa Sicuramente Elimineremo Il Red Phantom Che ci fa Andare avanti Con la missione di Barre Quella è una cosa Che almeno Sarebbe carino Provare a fare Sbaglio Qui c'erano Due guardie Sus A cavallo Che ci aspettano Io mi ricordo La prima volta Che sono venuto qua Che me le sono ritrovate qua E' stata una scena Epica ragazzi Non potete capire La doppia sentinella Veramente Tanta roba Tanto qui Ti danno due semi Io direi Che il Gargoyle Può rimanere qua Aspettare proprio Se non sbaglio Qui c'era Il nostro amico Giusto? Eccolo Tesoro Quanto mi sei mancato? Mi sei mancato molto Lo sai? Eh già Siamo un po' più forti Dell'altra volta Fratello Eh già È cambiato Sosso un po' Eh già Bellissimo Dai dai Forza Forza Seconda fase E addio Molto bene Dopo un combattimento Devo dire Decisamente lungo Come posso dire Eliminato dai cucri Sia Una cosa abbastanza soddisfacente Allora ragazzi Ho cercato su internet Dovrebbe stare Quaggiù L'NPC Della missione di Vare Un bel po' di strada Però dai Facciamoci questa strada Incredibile E eliminiamo questa NPC Almeno abbiamo fatto qualcosa Di susso in questo episodio Eccolo Magnus L'artiglio Mai visto sto cosa Ah usa le mosse Bestiali Ma è fichissimo È pure forte Mi sa Giustamente Non vuole morire Sto cosa Allora beviamo Ah ma usa solamente Questa roba qua È una forza Della natura Sto cosa Beh l'hanno fatto Abbastanza Come dire Sus Ok 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 Quindi adesso Vare è contento Allora ragazzi Per questo episodio Assurdo del Drey Può finire qua Mi dispiace Che non è stato Un episodio denso Di cose Ma più così Ne a caso Nel prossimo episodio Avrò finito la missione Di Vare Avrò portato Sus Un pochino Su di livello E probabilmente Elimineremo Quella sentinetta Dragonica Sus Col cavallo In maniera simpatica Inizieremo L'esplosione della capitale Un pochino più forti E un pochino più coscienti Di quello che ci sta Per andare contro Oggi Sus è stato silente Era pronto per andare a fare festa Ma qui non ci stanno le feste E che dovete fare ragazzi Oggi è stato un episodio Un po' così Il cameraman L'ha registrato Tipo un'ora e mezza E non è riuscito a combinare Tutto quello che doveva fare In quinta'ora e mezza Cioè Il vostro Sus È senza parole Guardate Sus Cioè È vicino a quel tizio Sus Siamo un po' tutti quanti Sus Comunque il vostro Sus Voleva fare un annuncio Incredibile Allora caro Zo e il cameraman Come ti chiami L'annuncio di Sus È che effettivamente Ripensandoci Abbiamo droppato Un oggetto Sus L'elmo Con i tentacoli Incredibili Che effettivamente Gli avevo detto Che col cavolo Me lo metto in testa Perché guardate Che bei capelli Che ha Sus Ho pensato A una cosa intrigante Dato che quel polpo Elmo È rarissimo Lo useremo Nel DLC Sarà il nostro gadget De raffrontare Il DLC Quindi tienilo nell'inventario Che lo useremo Sicuramente Deo Ragazzi Che cosa lo seguo voi Ci vediamo Alla prossima puntata Alla prossima puntata